Capo d'Orlando railway station Il treno è arrivato e questo è un gruppo mille piani alla Vedero Un gruppo Seneca alla Vedero E sarà completamente pronto Il treno è arrivato Il treno è un treno di regione Il treno è un treno di regione L'ho visto molte volte Il treno è un pilota È un treno? No È un treno di base E la moto è un treno di produzione Il treno è iniziato Lo fermo Qui c'è il treno Il treno è finito con mille piani L'hanno un treno di stelle il treno va da Palermo a Gioio Samarea ora vediamo la partita e enjoy the E464 sound the E464 is on the rear side of the train is on the rear side of the train is on the rear side of the train E' un treno di Leonardo Express, ora si tratta di un treno di Italia normale.